ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale sono simone siamo qui in questo nuovissimo video siamo su codonline siamo sul nooketown su un mosquit caos usiamo l'xr2 allora ah ce l'ho uno davanti beh sono morto di gioco cambio subito amo prendo il cuda oddio c'ho paura da un po che non gioco a corte a oddio mi sembra differenza quando non gioca a corte per un po di tempo a mamma mia una strage no l'ho detto ma ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io corri a mamma mia tripla rombo di tuono mamma mia trovo trovo facciamo uno dietro ah ah no è morto ma cosa sta succedendo dentro la casa ucciso mi sa che ci stanno massacrando oddio non l'ho ucciso con l'arco e vabbè 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 quando uno non gioca da tanto tempo no c'è il robot basta però sono primo da notare c'è paura c'è paura c'è paura c'è paura non ci sto capendo più niente ah vada dietro spawn non so spawn non muore assist no no mi ha ristituato cioè mi ha praticamente lui mi ha ucciso no dando mi in mano la palla ma basta basta dietro dietro di te e vabbè ma ho ucciso con la palla dai ma andiamo su eh oddio che casino nostro spawn nostro spawn ora oh mio dio 4-0 oddio venetelo oddio che casino eh più granate lanciatemi non ci sto capendo più niente mi lanciano di tutto eeeh vabbè vabbè mi sa che perdiamo 8-0 non per ce l'ho io la palla lancio lungo sul tetto headshot oh mio che headshot c'è uno che gira con il coltello no i raps i raps i raps ah che headshot oddio no no finto i colpi no dai non l'avevo visto quanto mi è mancato cod no via no la palla ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io si si l'ho ucciso l'ho ucciso dai che camper che camper no no mamma mia oddio no mi ha coltellato anche se perdiamo è stata una partita epica eh si 41-31 prima partita del canale in positivo eeeh va bene ragazzi questo video è finito spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video ciao